buon pomeriggio siamo sempre qua in collegamento dal quartiere Begato di Genova Bolzaneto come potete vedere questo ripeto e ribadisco che è uno dei quartieri peggiori di Genova volevo appunto mostrarti alcuni particolari del quartiere con questi con queste dio questi palazzi trappola dove ci sono tantissimi appartamenti abbandonati sfitti ma ridotti senza norme di sicurezza con persone pericolose un elevato tasso di omicidi e un elevato tasso di degrado come potete vedere di là ci passa il viadotto autostradale là sopra ci sono i forti di Genova quelli occidentali e lì il quartiere come potete vedere continua adesso noi stiamo per riattraversare alcune delle parti più più critiche qua del quartiere come potete vedere eccoci qua allora qua altro palazzo altro palazzone è un'altra zona critica stiamo risalendo il quartiere di Begato questa è la parte bassa adesso c'è ancora tre chilometri in salita che ci porteranno verso la parte più alta del quartiere perché sono partito dal celese di Rivarolo e sto risalendo praticamente sul versante orientale del quartiere allora come potete vedere qua strutture veramente pessime ecco qua guardate quei palazzoni quelle dighe trappola là in fondo proprio sullo sfondo potete vedere i forti di Genova poi queste che sono nuovamente altre dighe sempre assolutamente pessime ed inabitabili ripeto e ribadisco uno dei quartieri peggiori pericolosi qua di Genova il quartiere di Begato con queste ripeto palazzoni in dighe trappola e soltanto una parte è stata finora recuperata